Le novità per quest'anno sono intanto una percorrenza in più, quindi abbiamo aggiunto oltre alla classica e alla doppia che è stata inserita l'anno scorso una percorrenza da un miglio e mezzo che chiamiamo mezza e questo ha portato il numero di atleti a crescere e siamo veramente contenti. E poi come novità di quest'anno c'è anche il trofeo di nuoto Città di Pineto, fa parte del circuito Adriatico Acque Libere che è costituito da cinque manifestazioni e quindi siamo anche contenti di inaugurare questa nuova forma di nuoto in Acque Libere. Viene varata l'iniziativa del Miglio Blu, di cosa si tratta? È stato inaugurato lo scorso giovedì, è a cura dell'area marina protetta di Torre del Cerrano ed è una percorrenza appunto di mezzo miglio utilizzabile sia come incremento per il turismo perché è una metratura specifica quindi ci si può anche allenare sia sulle percorrenze di velocità che per chi vuole fare acqua libera fare più volte appunto i giri. È un percorso sicuro in area marina quindi rispetto per l'ambiente soprattutto, contraddistinto da BOE ed è una cosa che invito tutti i turisti e atleti a usare.